Buon pomeriggio ragazzole e ragazzuole, ho imparato finalmente a salutarvi dopo che scatta il rosso del rec perché io mi rendo conto che ogni tanto il mio saluto mi è arrivato spezzato questo piccolo break iniziale, io spero tutto bene, comunque in realtà non ci siamo visti ieri nel senso che ho girato un video ieri, questo è il video per continuare questa corsa agli Oscar nel senso che è la mia corsa personale di vedere circa tutti i film che non sono riuscita a vedere in questo periodo cioè io sono tipo appena guarita dalla congiuntivite, temo che mi tornerà più potente di prima perché sto sclerando, infatti mi bruciano leggermente gli occhi a continuare a guardare dei film e questa sarà una doppia recensione perché se vi sto a fare un video per ogni film finiamo tipo settimana prossima e visto che ho visto questi due film e per me hanno un comune denominatore ho deciso di metterli semplicemente nello stesso video che magari sarà un po' più lungo perché sono due film che per me si reggono interamente sulle due interpretazioni femminili scusate perché mi sono resa conto che ho la testa tracciata ecco, scusate appunto vi stavo dicendo due film che si reggono su queste due interpretazioni femminili due film che per me tolte queste interpretazioni sarebbero due film veramente mediocre e dimenticabilissimi mi scusino quelli a cui questi due film sono piaciuti comunque come voi sapete io accetto, anzi bene accetto sempre se voi mi rispondete mi dite no guarda aspetta a me in realtà questo film invece mi è piaciuto molto a me questo film invece mi ha fatto schifo, a te è piaciuto e quando mi spiegate poi anche il perché io sono contentissima perché è sempre un metodo di confronto comunque partiamo subito con i due film il primo film di cui vi parlo questi sono ovviamente due film in cui si è parlato tantissimo e per cui sicuramente li avrete strasentiti nominare il primo è Albert Nobbs di Rodrigo Garcia con Glenn Close, Mia Vasikoska, Ron Johnson, Brendan Gleeson e tanti altri attori e Janet McTeer giusto perché anche lei ha avuto la nomination all'Oscar è un film che se ne è parlato molto perché ha questa trama un po' particolare perché il protagonista Albert Nobbs è interpretato a Glenn Close che è una donna Albert Nobbs è un maggiordomo nell'Irlanda del XVIII secolo ed è un maggiordomo che appunto nasconde questo segreto cioè che è una donna ha un maggiordomo che lavora in questo hotel si chiama Morrison's Hotel no scusate dovevo dirlo perché quando l'ho visto ho fatto un salto sulla sedia lavora in questo hotel, è molto apprezzato per il suo lavoro è una persona molto precisa e sta risparmiando un sacco di soldi poi noi scopriremo che Albert risparmia perché vuole mettersi in propria vuole aprire il suo negozietto però lui ovviamente nasconde questo suo segreto no giustamente finché un giorno non incontra questo bianchino che si presenta appunto nell'hotel e scopre che anche questo bianchino ha lo stesso suo segreto che però è sposato che ha questa moglie amatissima che praticamente vive una vita quasi tra virgolette normale e per cui anche in Albert si radica diciamo questa idea di anche lui non soltanto aprire questa sua attività in proprio ma di eventualmente sposarsi e per cui di andare a vivere con un'altra persona in casa ora non pensate che Albert sia donna ma sia tipo lesbica in realtà la sua è proprio l'idea di formarsi una famiglia più che l'idea della sessualità ecco diciamo più che un interesse verso la sessualità è un film che è stato fortemente voluto da Glenn Close che l'ha interpretato a teatro negli anni 80 questo testo perché è un testo teatrale e si vede che è un testo teatrale mi spiego il problema è che tanti film che vengono appunto portati al cinema da dei testi teatrali hanno tutti un denominatore comune soffrono di un difetto che è la lentezza non tutti però purtroppo una cosa che può capitare perché vedere un testo scritto per il teatro a teatro è una cosa perché il teatro ha i suoi tempi e comunque noi ci troviamo davanti agli attori nel momento in cui recitano per cui recepiamo anche le emozioni in maniera molto più diretta mentre il cinema è già diverso il rapporto che noi spettatori abbiamo con gli attori perché comunque c'è qualcosa che si frappone tra noi e loro il problema di questo film è che soffre appunto di questa cosa di una eccessiva lentezza soprattutto nella seconda parte cioè è molto statico come film è un po' come il dubbio io non so quanti due l'abbiano visto che è con Philip Seymour Hoffman Mary Streep Amy Adams Viola Davis che è un film che ha delle interpretazioni che sono straordinarie assolutamente però è lentissimo è lentissimo e per me visto a teatro quel testo non doveva essere così lento per me era molto doveva essere molto diverso io non l'ho visto so che l'hanno fatto anche in Italia con Stefano Accorsi ma non l'ho visto e questo Albert Nobbs purtroppo ha lo stesso difetto è molto molto statico la prima parte no è molto interessante sicuramente poi tutta la ricostruzione storica è pregevolissima anche perché poi ultimamente si insiste molto su questa cosa di ricostruire perfettamente costumi, scenografie e quant'altro cosa che magari prima si faceva con un pochino più di leggerezza invece adesso si insiste molto il problema è questo il problema è che cioè il regista o chi per esso non riescono a mantenere alto l'interesse per me dello spettatore la cosa veramente mirabile di questo film come si è già detto sono le interpretazioni di queste due attrici soprattutto ovviamente di Glenn Close che è straordinaria in questo film veramente poi vabbè a me lei è comunque sempre piaciuta tantissimo Glenn Close che se ne è parlato tanto perché dice cavolo 5 nomination all'Oscar non l'ha mai vinto io direi Peter O'Toole ha avuto tipo 13 anche lui non l'ha mai vinto per cui Glenn Close sei ancora indietro è veramente fantastica lei in questa interpretazione l'ha avuta anche Janet McTier come miglior attrice non protagonista che è quella che interpreta questo in bianchino che ha lo stesso segreto di Albert però a parte c'è Glenn Close è vero c'è Janet McTier però mi sembra che tutto il resto non sia commisurato diciamo all'interpretazione della protagonista c'è un po' di trascuratezza in questo senso nel senso appunto come vi ho detto che è tutto in funzione della sua interpretazione e non dovrebbe essere così comunque in un film cioè non dovresti fare un film per l'attrice che lo interpreta poi il resto chi se ne fregano io ho percepito un po' questa cosa oltre a Janet McTier vi ho detto che c'è anche Mia Vasikoska che alcuni di voi si ricorderanno per Jane Eyre e per Alice in Wonderland che è anche lei molto brava anche se è un ruolo che passa un po' inosservato diciamo perché vabbè Meryl Streep cavolo è un mostro cioè Meryl Streep scusate è un mostro sacro per cui passa un po' inosservato il suo ruolo però comunque lei si mantiene sempre su un certo livello comunque alto di recitazione che veramente io non riesco non sono riuscita proprio a soffrire è stato Aaron Johnson Aaron Johnson che è questo attore che farà Dio mio Vronsky nell'Anna Karenina di Joe Wright che in questo film interpreta questo ragazzo un po' come dire sciupa femmina un po' furbetto che allaccia questa relazione col personaggio di Mia Vasikoska Ellen e ha un'interpretazione che è veramente ai livelli minimi storici credo non lo so è dimenticabilissimo a parte il personaggio in sé aveva anche una certa utilità diciamo all'interno del film è proprio l'interpretazione che è scarsissima cioè boh non dice niente e gli fanno fare Vronsky da parte che questo qui è un pupo quanti anni ha 23 24 non lo so ma Vronsky non può fare Vronsky io adesso io non è che sia sta fan spiegata di Joe Wright però per me ha preso un'accantonata immensa comunque poi quando uscirà Anna Karenina ne parleremo eventualmente il secondo film che ha sempre questo per me è difetto cioè di basarsi unicamente sull'interpretazione femminile della protagonista è di Iron Lady di Iron Lady se ne è parlato tantissimo perché la protagonista è Meryl Streep ma soprattutto perché interpreta un personaggio controverso come quello di Margaret Thatcher primo ministro inglese che ha avuto tre mandati chi dice che è stata amatissima chi dice che è stata invece uno dei personaggi politici forse più adatti alla storia della politica è un film biografico che ci racconta in un'ora e quaranta per cui pochissimo alcuni pezzi della vita di Margaret Thatcher vi dico alcuni pezzi perché mancano tantissime cose veramente tantissime vabbè che Margaret Thatcher è stata al governo per un fracco di anni per cui inserire tutto comunque sarebbe stata una cosa molto difficile forse si poteva se la regista avesse diciamo girato il film in un altro modo perché perché è un film classico biografico nel senso che né più né meno non ha niente di nuovo cioè non da niente di nuovo rispetto ai film biografici soliti cioè il film inizia con Margaret Thatcher anziana come noi sappiamo Margaret Thatcher ha realmente dei problemi di demenza simile Alzheimer per cui lei ottantenne parla col fantasma del marito Dennis e nel frattempo ricorda alcuni fatti importanti di tutta la sua vita è un film che io ho guardato molto a fatica non perché non mi piacciono le biografie non perché non mi piacciono i film politici perché in realtà comunque sono film che mi piacciono non che questo sia un film particolarmente politico questo lo dico subito perché tanti fatti sono stati tralasciati è un po' furbino questo film è un po' furbino c'è anche da dire questo è un come dire io non la definirei a geografia nel senso che non è che innalza il personaggio della Thatcher dicendo ah bravissima Thatcher ha fatto soltanto cose furbe e di cose cattive non ne ha fatte però io la parte diciamo di politica in cui la Thatcher è stata più controversa non le ho sentite molto nel senso che mi è sembrato un film abbastanza per esaltare questa figura però prima di parlare di questo vi spiego perché io non lo ritengo questo gran film è un film in cui Meryl Streep dà una interpretazione bellissima bravissima lei ma lei a parte il fatto che lei è sempre bravissima per cui cioè io le darei un Oscar così tutte le volte che lei fa un film Oscar però è un film in cui lei interpreta uno un personaggio stra famoso stra conosciuto pure controverso che non fa mai male e si è comunque anche cambiata qualcosa diciamo per i denti e non so che cos'altro poi non avendolo visto in inglese non so come l'ha diciamo modulato la voce o quant'altro ma sicuramente avrà fatto tutto un lavoro anche di intonazione lei è straordinaria è bravissima ma è un classico film in cui uno si porta a casa un Oscar è brutto da dire io mi rendo conto che mi attirano le ere di molti però è un film fatto a misura per far pigliare l'Oscar a chi interpreta la Thatcher se la interpreta in maniera egregia ora prendi una come Mary Streep è logico che ti farà un'interpretazione della Madonna per cui tu sai già che questa porterà a casa 8000 premi soltanto comunque per aver interpretato così egregiamente un personaggio del genere indipendentemente dal fatto che il film sia bello brutto e il film non è bello per niente a me cioè non è chi sia piaciuto particolarmente ora la materia comunque da gestire era difficile l'hanno andata in mano questa regista che è vero che è Philida Lloyd che è una regista molto famosa in ambito teatrale in ambito cinematografico ha girato soltanto mamma mia il problema è che per me ci voleva un regista con un pochino più di polso e un po' più di originalità perché far partire il film da una che è ottantenne e poi si ricorda le cose è un classico della biografia un po' e come vi ho detto la vita politica della Thatcher non viene più di tanto trattata viene più trattata la Thatcher come donna perché poi diciamo le varie come dire avvenimenti politici che sono si sono seguiti durante il governo della Thatcher sono trattati un po' sì un po' no più no che sì soprattutto quelli un pochino più spinosi tipo non lo so quando ci sono stati gli scioperi della fame di tutti quei militanti politici dell'Ira che la Thatcher li aveva fatti crepare dicendo ma s'arrangi lo fatti pure lo sciopero tipo tutti gli scioperi dei minatori in Inghilterra tipo adesso non me ne vengono in mente degli altri però tutte diciamo le cose più controverse del governo della Thatcher non sono state trattate per cui neanche che ci dà un ritratto a 360 gradi di quella che è stata effettivamente la Thatcher cioè non è che puoi far vedere soltanto lei dici cavolo io non metto in dubbio che fosse una donna con le palle perché per carità per aver fatto quello che ha fatto poi è stata anche rieletta tre volte sicuramente ha preso anche delle decisioni di un certo peso attirandosela anche contro di tutti i colori e Merleys Tripp comunque è bravissima a interpretare questo personaggio però è proprio la scelta registica che diciamo io sto criticando cioè di farci vedere soltanto le cose più tra virgolette positive del governo della Thatcher tralasciando un po' tutti gli aspetti negativi dei suoi così tanti anni comunque di governo e è una cosa che anche non mi è piaciuta del film sono anche tutte queste scene un po' confusionare buttate in mezzo c'è un po' prima presente è passato futuro per me è un montaggio che è un po' troppo incasinato e che non è che aiuta tantissimo a come dire a seguire il film non dico leggerezza perché il tema trattato comunque è importante ma sicuramente poteva essere un pochino più facile da seguire nel senso di non dover continuamente star lì a pensare adesso non so come spiegarlo mi sono un po' incasinata comunque uff no per dire che comunque sì non è un film che mi è piaciuto particolarmente e come vi ho detto attirandomi l'ere di molti lo ripeto cioè Mellie Streep è vero è straordinaria però è proprio il ruolo cioè è il ruolo che ti dà l'Oscar questo non è perché Mellie Streep è per carità ma di ruoli che danno Oscar ce ne sono ce ne sono almeno 4-5 tutti gli anni nel senso Charlize Theron gnocca da spavento si imbruttisce fa questo personaggio drammaticissimo prende 20 chili gli dai l'Oscar cioè è proprio una cosa che succede praticamente sempre adesso diciamo nel senso fai il personaggio sfigato ti imbruttisci poi se no c'è il personaggio handicappato cioè sono proprio quei ruoli ci ha fatto Oscar è brutto da dire me ne rendo perfettamente conto però provate a guardarci a pensarci è sempre così tra l'altro scusate la parentesi ma c'era una cosa meravigliosa che diceva Robert Downey Jr. in Tropic Thunder a proposito appunto degli Oscar del fare l'handicappato per prendere l'Oscar cioè fate l'handicappati ma non fate i troppo handicappati perché il troppo handicappato uno non riesce a immedesimarsi invece il quasi handicappato sta più simpatico e l'Oscar si prende molto più facilmente chiusa parentesi se non l'avete visto Tropic Thunder guardatelo perché è un film fantastico per cui questo per dire che io cioè io come vi ho detto l'Oscar a Mellie Streep lo darei subito Glenn Close anche lei altra mostro sacro del cinema che mi spiace che non l'abbia mai vinto io glielo avrei dato per le relazioni pericolose perché lì per me era straordinaria Glenn Close o anche in attrazione fatale perché è un ruolo un po' controverso e le sarebbe stato bene un Oscar per questi ruoli ma tanto l'Oscar per questi ruoli non si vince per cui no non glielo avrebbero mai dato questo per dire che io spero che non lo vinca nessuno delle due non perché è vero che non si dà l'Oscar al film ma si dà l'Oscar all'attrice è vero però in quella categoria io ho visto attrici forse più meritevoli di vincere quel premio ecco diciamo così adesso a me mancano ancora un paio di film da vedere per poi giudicare in pieno perché c'è Mary Striep Glenn Close Viola Davis Runei Mara e Michelle Williams a me manca ancora My Week with Marilyn che se riesco guardo stasera se non riesco di casa farò la maratona stanotte per cui vedremo chi vince per me vince Viola Davis o Michelle Williams una delle due però non si può mai sapere cioè nel senso che a volte è scontatissimo chi vince a volte invece stranamente c'è la sorpresa finale nel senso per me quest'anno piglia tutto di artist comunque non c'entra niente con i film però ve lo dico così e voi fatemi sapere se avete visto questi film che sono molto curiosa di sapere che cosa ne pensate perché visto che per una volta vi ho parlato dei film che non mi sono piaciuti tantissimo sono curiosa proprio di sapere se invece a voi per caso sono molto piaciuti se anche voi la pensate come me se pensate che abbia detto una marea di beep voi ditemelo io sono qua apposta per rispondervi e ora vi lascio e torno a fare la mia maratona di film così finisco di guardarli e poi vi faccio una recensione anche degli altri non ce la sto facendo più mi fanno anche male gli occhi vabbè ciao ragazzi buona visione ciao no ragazzi scusate nel frattempo è anche calato il sole cioè a me vengono questi momenti finali in cui mi ricordo le cose il momento nerd in The Iron Lady cioè ci sono ben dico ben due personaggi due attori da Game of Thrones uno è Harry Lloyd ossia il compiantissimo Viserys che interpreta Dennis Thatcher cioè il marito di di Margaret da giovane e poi c'è Ian Glenn che è Sergiora Mormont cioè non ce la posso fare è fantastico infatti quando li ho visti urletti e robe di queste cose vabbè il momento nerd lo chiudo qua scusate questa piccola parentesi nel video era un video serio fino a un minuto fa scusatemi ciao ragazzi